La pagina dedicata al coronavirus con una doppia vaccinazione, la variante Delta viene fronteggiata bene. Lo ha dichiarato il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, che ha aggiunto che la variante indiana del virus sta diventando prevalente e si prova a contenerla con il tracciamento. Intanto la regione supera le 3 milioni di dosi di vaccino somministrate. Vediamo. Il 58,2% della popolazione vaccinabile pugliese dai 12 anni in su ha ricevuto la prima dose. Sulle seconde dosi la Puglia registra il 26,6% di somministrazioni, mentre in Italia la media è del 25,2%. E con 15.331 somministrazioni eseguite in una sola giornata, la ASL di Bari ha superato la propria media quotidiana di vaccinazioni. La campagna vaccinale prosegue anche negli istituti di detenzione. Nel carcere di Bari si registra un'adesione del 91,5% e ad Altamura risultano vaccinati con prima dose 75 detenuti su 77. Sul piano della prevenzione l'unità operativa complessa di medicina penitenziaria si avvale di un servizio di ecografia polmonare che permette la gestione della polmonite da Covid. Inoltre è stato attivato il progetto di riabilitazione Covid a casa, orientato alla presa in carico del paziente nella fase post-Covid da parte del team riabilitativo. Intanto il presidente pugliese Michele Emiliano ha rassicurato che non c'è preoccupazione perché con una doppia vaccinazione la variante Delta viene fronteggiata bene. È possibile, ha aggiunto il governatore, che di fronte a queste varianti gli scienziati stiano già per predisporre gli aggiornamenti dei vaccini. Ci accingiamo alla terza vaccinazione degli operatori sanitari in autunno. Ieri pomeriggio si è tenuta una riunione tra la Task Force regionale contro il Covid e le ASL pugliesi, in cui è stata sollecitata la necessità di una sorveglianza maggiore proprio sulla variante Delta.